Il Comune di Milo ha presentato nei giorni scorsi il suo cartellone estivo annunciando la prima edizione della rassegna al Milo Fest 2016 con appuntamenti nei mesi di luglio e agosto che prevedono la presenza di numerosi artisti come Emma, Giussi Ferreri, Giuseppe Castiglia, Salvo La Rosa e tanti altri sotto la direzione artistica di Franco Battiato. All'interno della manifestazione si terrara l'assegna di teatro per ragazzi La Fabbrica della Fantasia, organizzata dall'Associazione Culturale Archidrama. L'Anfiteatro Comunale Lucio Dalla di Milo ospiterà quattro spettacoli teatrali il 15 e 21 luglio e il 18 e 28 agosto allestiti da compagnie siciliane sotto la direzione artistica di Alfio Zappalà. Lo scopo di questa rassegna è riservare particolare attenzione ai più piccoli per renderli partecipi della manifestazione e al contempo avvicinarli al mondo del teatro. Si tratta appunto di una rassegna di teatro ragazzi pensata per i bambini dai 3 ai 10 anni che si svilupperà su quattro appuntamenti due nel mese di luglio e due nel mese di agosto. La rassegna porta il nome La Fabbrica della Fantasia che è un titolo che l'Associazione Archidrama da parecchio tempo dà alla rassegna di teatro ragazzi che organizza un po' in giro nel territorio ionico e tenneo negli ultimi anni e quest'anno abbiamo accettato l'invito di realizzarla all'interno del cartellone Milo Fest edizione 2016. Il primo appuntamento sarà il prossimo venerdì 15 luglio e vedrà in scena la compagnia La Casa di Creta che è una delle compagnie ospite di rassegna del circuito di teatro ragazzi regionale.